Nell'ultimo giorno del suo pellegrinaggio in Terra Santa, Papa Francesco ha voluto rendere omaggio alle 6 milioni di vittime dell'Olocausto al memoriale dello Yad Vashem di Gerusalemme, ad accompagnarlo il Presidente Perez e il Premier Netanyahu. Nella sala delle rimembranze il Papa ha alimentato la fiamma perenne che ricorda lo sterminio degli ebrei che si erge sulle scritte dei 21 campi di concentramento nazisti. Aiutato da due giovani cattolici di espressione ebraica di Jaffa e di Tel Aviv, ha deposto una corona di fiori bianchi e gialli sull'urna contenente le ceneri degli ebrei cremati ad Auschwitz. Quindi Papa Francesco ha salutato sei sopravvissuti, visibilmente commosso, a ciascuno di loro ha baciato la mano. Nel suo discorso, in forma di preghiera, Francesco ha ripreso la voce di Dio che dice ad Adamo «Dove sei?». In questo luogo, memoriale della Shoah, sentiamo risuonare questa domanda di Dio. In questa domanda c'è tutto il dolore del padre che ha perso il figlio. Quel grido «Dove sei?», qui, di fronte alla tragedia incommensurabile dell'Olocausto, risuona come una voce che si perde in un abisso senza fondo. «Uomo, chi sei? Non ti riconosco più. Chi sei, uomo? Chi sei diventato? Di quale orrore sei stato capace?», ha detto il Papa. «Cosa ti ha fatto cadere così in basso? Chi ti ha contagiato la presunzione di impadronirti del bene e del male? Chi ti ha convinto che eri Dio? Non solo hai torturato e ucciso i tuoi fratelli, ma li hai offerti in sacrificio a te stesso, perché ti sei eretto a Dio». «Mai più, Signore! Mai più!» «Adamo, dove sei?» «Eccoci, Signore, con la vergogna di ciò che l'uomo, creato alla Tua immagine e somiglianza, è stato capace di fare. Ricordati di noi nella Tua misericordia».